Ciao ragazzi, io sono Vivo Libero e vi do il benvenuto su Ocean Nomad Allora ragazzioli, ragazzioli, scusate se in questi due o tre giorni non ho fatto live questa settimana è vero, avete ragione, non ho fatto pochi video, intanto curiamoci perché sono in uno stato pietoso mi sono portato avanti leggermente e ragazzi oggi siamo pronti per trasferirci per l'ennesima volta Allora, incominciamo un tanto ragazzi a trasferirci, intanto facciamo così, mettiamoci dell'acqua, così e adesso lasciamo così, e del cibo, perfetto, dobbiamo espandere Ok, allora qua ci siamo, ho fatto un po' di cosucce come potete vedere, ho messo delle staccionate qua non le ho messe perché poi vediamo come fare, voglio fare un'altra cosuccia Uh, intanto dobbiamo prendere queste E poi ragazzi ci espandiamo, eh Allora, tu sei mio, perfetto Non mi interessa Andiamo qua che c'è una bella cassa E poi ci spostiamo, eh ragazzi Vedete qua ho fatto la pedana doppia, perché almeno così siamo più tranquilli Ok, allora, quello là, forse ce la facciamo Esatto, eh, quella là ragazzi non ce la facciamo Eh, mannaccia la miseria, ok Allora, andiamo sulla nostra mappa Andiamo a vedere se È già passato il tempo, perché esatto Vai alla ricompensa Perfetto Prendi E noi, come sempre, abbiamo stoccacchi di inventario Pieno Aaaaaah Ok, piano piano diminuisce anche il prezzo Dell'esplorazione Allora, torniamo a casa Andiamo qua Perfetto Adesso ragazzi dovremmo essere su altre isole Il problema è che sia sempre così Non cambia praticamente nulla Allora Andiamo a vedere qua Cosa possiamo posare Ok, abbiamo Un po' di legna Allora Per Questa cosa Allora possiamo Incominciare ragazzi Intanto a craftarci Queste Come potete vedere Ne possiamo fare Ne possiamo fare Allora Una Due Tre Quattro E cinque Ok E Possiamo poi Piano piano Ragazzi Incominciare a Cambiare Queste qua Allora Allora Intanto facciamo così Andiamo qua E incominciamo a fare Questa cosa Ok Ok Così possiamo essere tranquilli Ok Incominciamo a fare così E ragazzi Incominciamo a mettere Le nostre Si fa un po' schifo Da vedere così Ragazzi Però Ok Abbiamo poi Da togliere un po' di cose Adesso Incominciamo a fare Anche così E Scriviamo magari Questa qua E cinque E voilà E piano piano Ragazzi Incominciamo Vedete Adesso Abbiamo iniziato A fare questo Dobbiamo poi Mettere la porta in legno Ma la porta in legno La faremo Allora Io direi Ragazzi Adesso Di incominciare A fare un'altra Bella posuccia Incominciamo A andare Esattamente Lì E Vediamo Un attimino Allora Eccoci qua Sull'isola Come sempre Ci sono i nostri ragni Porca miseria Schifosa Essere immondi E per adesso Non cambia nulla Ci sono Le nostre piccole Risorsette Ci sono Solo ragni Non riesco a capire Perché Questa cosa Ma comunque Non cambia nulla Ci sono Solo ragni E Stesse Identiche Cose Allora Intanto Dobbiamo Per forza Fare Così 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 Tu sei Un ragno Morto Perfetto Ok Perfetto Qua ci siamo Andiamo qua E Andiamo Questo No Niente Ok Dai Allora Via tu Via tu Perché intanto Ce l'abbiamo Andiamo Et voilà Ok Ci siamo Andiamo a smacciullare L'altro ragno Che se ti vuolo E ragazzi Qua io Non lo so Andare avanti Così Per delle isole Che sono praticamente Tutte uguali Non lo so Non girano un po' I cilindicoccoli Tu devi morire Cioè Non c'è un animale diverso Cioè Non abbiamo ancora visto niente Ci sono solo ragni e granchi Guarda di quella troia Allora Tu Via Tu Usa Via Ok Andiamo Un attimo Un po' in mezzo Che ci deve essere Questo Da prendere E Questa No Perché l'aragna Presa Un altro Aragna Schifo e zuolo Ok Sto cercando Ragazzi Di Non schifarmi Più di tanto Ma Ho uno schifo Ad un po' Se ne metà Basta Allora Via Tu E mettiamo Questa Ok Ci siamo Andiamo Niente Ragazzi La prima isola È andata 5 su 5 Ok Allora Andiamo qua Così a questo Andiamo qua Ok Ok Questa facciamo così Ne vengono 7 Ma possiamo Farsi a far così Via Eliminiamo Allora Con queste Ragazzi Incominciamo A fare un'altra Cosa Luce Allora Questa Anche questa Legna Per adesso Qualcosa abbiamo Ma Allora Dobbiamo Fare La porta La porta Intanto La porta La porta Di legno Eccola qua La porta Di legno Ce ne servono 4 Ne abbiamo 6 Perfetto E abbiamo fatto la porta Allora Facciamo così Togliamo La nostra porta Et voilà E mettiamo La nostra porta Di legno Et voilà Che non cambia un cazzo Ragazzi Cambia solo il contorno Va bene Dai Ok Allora Fatemi vedere Uh Allora Due secondi Ragazzi Raccolgo Questa Questa Altra isola Qual è quella Che abbiamo visto Siamo andati qui Ok Allora Come sempre I nostri ragnazzi Io spero Che cambi qualcosa Ragazzi Perché se no Cacchio qua Incomincia a essere Un po' noiosa La cosa È sempre solo Ragni E granchi Ragni E granchi Cioè Siamo in un mondo A parte Sempre solo questo Ragni e granchi Hanno un po' Scassato le marrotelle Le marrotelle Muore 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 Brutto Splugo Ok Questo è nostro Andiamo a rompere Il sederino All'altro Ragni Ragni Scef Suolo Mamma mia Vecita immonda Eccola qua Ma perché Sono sempre A piano Allora Tu via Perché intanto Non ci servi Via anche questo E voilà Tu Vieni qui Che ti spacco Subito Lo sole del tererino Tutto Schiffezzuolo Allora Ma vaffan Cia pet Allora Ragazzi Io stavo Pensando A un'altra Cosiccia Ehm Mazza O Via 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 Ok Qua Ci siamo Ci deve essere Un altro Schiffezzuolo In giro Dove sei Schiffezzuolo Vediamo Allora Via Tu Che via Tu Allora Ma Porca La miseria C'è Sono sempre Piero Ok Niente Io spero Ragazzi Che cambia Un po' Qualcosa Perché Se no Se no Davvero Non so Non so Cosa Dire Non so Cosa Fare Ok Abbiamo raccolto Praticamente Tutto Anche Su quest'isola Ragazzi Qui Non lo so Non lo so Ehm Allora Io direi Intanto Far così E così Vuotiamo Il nostro Pistolino Ok Via Tu Via Tu Che ne abbiamo Un'infinità Questa roba Poi Via Tu Perfetto Possiamo Praticamente Andare Su un'altra Isola Qua ci siamo Andiamo Su questa Isola Qua Ragazzi Si stanno Spostando le isole Non ho capito Perché Comunque O Adesso Finalmente Ci stiamo Spostando O Non lo so Perché Allora Tu Beh Che immonda Devi morire Isola Ok Perfetto Tu bestia C'è Madonna Ma quanti ce n'è qua Ragazzi Madonna C'è un attacco Plurimo Ehm Dai Muoricci Maloli Mannaccelo Splugo Service Mamma mia Superattacco Un po' dei ragnazzi Schifosi Oh Mannaccelo Splugo Service Ok Allora Tu Via Tu Via Ehm Vabbè Togliamo un altro Di questi Per l'intanto Ok Allora Qua abbiamo Niente Non prendiamo Pietra Non prendiamo Un Bifestone Ah Allora Tu sei morto Tu sei morto Fizzback Ok E qua ci sono I doblonazzi Che siamo A 15 Milioni Di miliardi Di schifezzi Ok Dovremmo essere Praticamente A posto Anche con questa Abbiamo Visitato Il tutto E ragazzi Io sto vedendo Che le isole Sono sempre tutte Praticamente Uguali Allo No Pensavo fossero Da cominci Da allargare Ma Non è vero Non è vero Vabbè Incominciamo Ad andare A vedere Se ci sono Altre isole Allora Due isole Qua ci sono Le abbiamo visitate Un'altra isola Era là Ragazzi Ci rimane Più solo Questa qua Che è uguale Identica Alle altre Andiamo a vederla E ragazzi Non so più Cosa devo Concludere Perché Non lo so Abbiamo visitato Praticamente Quattro isole Uguali alle altre E non abbiamo Risolto Niente Di niente Quindi Gli animali Sono sempre quelli Io non so perché Non hanno messo Un coniglio Non hanno messo Un cinghialozzo Non hanno messo Nulla Di Nulla Allora Tu Via Tu Via Tu Via Questo Il ragnazzo È morto Dai Schifo È solo Il mondo Perfetto Qua ci siamo Andiamo a prendere Questa Qua ci sono Tu sei morto Anche tu Pistolazzo Pistolazzo Schifoso Et voilà Come sempre Tutto pieno Via Tu Via Tu Non lo so E via Andiamo a prendere Questo Via Tu Via Tu E allora No Non ci siamo Per un cacchio E via Adesso ci siamo Niente ragazzi Finchè non riusciamo A risolvere Il problemozzo Qua Non riusciamo A far nulla Allora E come sempre Tutto pieno Oh Sante creole Allora Niente Ha deciso Di scassare I marozzoli Oh Ma Porca La miseria Cia Una qua E una qua Perfetto Allora Tu qui E tu Qua Fammi vedere Perfetto E tu qua Oh Mamma Vabbè Tu via Ma intanto Ti metto Niente a terra Vabbè Ok Dovremmo essere Quasi a posto Ragazzi Qua Abbiamo raccolto Ma qua ci sono ancora Ragni Mannaccia Lo schifo Ah Basta con i ragni Adesso Ma è scassato Del pallotto Comincia a essere Un po' Noioso Adesso Sto Sto Gioco Vi dico la verità Perché Le isole Sono sempre Tutte uguali E Praticamente Anche Anche Questo Può essere Tutto uguale Non mi piace Sta cosa Ragazzi Non mi piace Perché è tutto uguale Tutto completamente Uguale Le isole Sono uguali Tutto uguale Mi sto rompendo Le pallottole Vi dico la verità E vorrei Cercare di cambiare qualcosa Ma fino adesso Non ci sono Riuscita Melo Quindi Non lo so Io Facciamo una bella Cusuccia Adesso Intanto facciamo così E incominciamo A fare un po' di Quante ne abbiamo 15 Possiamo fare Tre pareti Ragazzi Una Due E tre Perfetto Andiamo dentro E incominciamo Sei morto Faccia di cacca Ok Non sei morto Allora Cominciamo a togliere Questo Ok E tre pareti Le abbiamo Andiamo su questo E incominciamo A metterne Una Qui Una Qui E una Qua Perfetto Ragazzi Abbiamo Incominciato A cambiare I connotati Di Casa Nostra Allora Andiamo a vedere Una cosa Qua intanto I polimeri Sono pronti Vediamo se Possiamo Mettere No Perché mi sa Che non abbiamo Più No Infatti Non abbiamo Più lastre Però 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 Stavo pensando Cosa eliminare Ma Non posso eliminare Per adesso Nulla Quindi L'unica cosa Mercoledì Allora Allora L'unica cosa Che posso fare Intanto Ragazzi È questa Come sempre Non posso Perché Non c'ho Spazio Ma Porca Porca Ragazzi Qua Che due Coyotes Matto È una cosa Assurda Via le pietre Dai Perché intanto Abbiamo capito Che Non si poteva Fare Un cacchio Allora Tu qua Via E Incominciamo Ragazzi A fare Un po' Di questi Perché Se no Ok 15 Ce li abbiamo Ma Ok Io A questo punto Qua Ragazzi Voglio fare Questo Perché La fornace Mi serve Quindi Devo Per forza Andiamo Vedere Se possiamo Magari Farne Un'altra No Perché Ci mancano Gli altri Fatemi Vedere Asse No No Abbiamo Perso Il Doblo De Schife Suoli Immondi Abbiamo Perduto I dobloni Già Non ce n'è Sti dobloni No Porca Di quella Schifezza Non è Possibile Cioè io Mi butterei In acqua Andare a Prenderli Però Ci morirei Mi sa Prima di Arrivare La Proviamo No È Scomparso Tu Sei un Pinocchio Perché Sto cazzo Di scuola Cretino No Ragazzi Ragazzi Dobbiamo Non è Quella Non mi serve Ragazzi Vedrò Vedrò Come fare Perché Siamo un po' Nella M Adesso Adesso siamo Nella M Perché qua Adesso stiamo Migliorando Però Ragazzi Come potete Vedere Sulla sinistra Non sono riuscito A andare avanti Non posso Andare avanti Non è possibile Quindi Non so Non so Come devo fare Perché qua Mi richiede Il gancio Migliorato Io ce l'ho Però Non me lo segna Mi dice Di rifarlo Però Non posso Rifarlo Perché possiedo Già questo Cracchio Di cosa E mi hanno Rotto un po' Le pallottole Quindi Non so Cosa dirmi Ragazzi Io Non lo so In qualche modo Si farà Io adesso Cercherò Di fare Altro E Vediamo un attimino Intanto Sto preparando Gli assi Qua Questi Per fare L'albero E poi Vediamo Un attimo Come fare Perché Qua Poi abbiamo Tutto Ho già Fatto Anche Questo banco Qua Che è Quello Che ci serve Per fare L'elettronica Come potete Vedere Per fare Questo Noi ne abbiamo Quindi possiamo Farne a volontà E Non riesco A trovare Altro L'unica Cosa Che possiamo Fare D'altro E Aspettare Non lo so Possiamo Provare A vedere Però Di provare A fare Ecco Per fare Questo Ragazzi Mi richiede Questo Io non ho Capito Ragazzi Come fare Quella Roba Lì Non so Non so Come farlo Davvero O lo trovo O se no Non lo so Non lo so Perché Semplice dispositivo Alichemico Sì Però Se non so Come si Crafta Ragazzi Io Non lo so Per craftare Per sbloccare Bisogna andare avanti Con tutto L'ambaradà E io Infatti Sto pensando Ragazzi Di Fermarmi Praticamente Poi qui E E Basta Perché Cioè Arrivati a Questo Punto Qua Io Li posso Far vedere Anche Però Non ho Le lastre Perché Volevo Farvi Vedere Anche Queste Pareti Però Non abbiamo La porta In ferro Il problema È Questo Qua Non abbiamo La porta In ferro Quindi Non lo so Non so Cosa Dirvi Ragazzi Io Intanto Facciamo Così E Facciamo Così Facciamo Due lastre E Vediamo Un attimino Io Ragazzi Faccio Quello Che Devo Fare Poi Vediamo Un attimino La Casa In legno La E basta Perché Visitare Sempre Le isole Sono tutte uguali Adesso Se andiamo Sulla mappa Andiamo A vedere Ci costa Meno Il viaggio Ci costa 38 Dobloni No Però Ragazzi Non sembra Che queste Isole Siano Invitate Ci dobbiamo Essere Molte Risorse Lì Ok Sono d'accordo Ma se le Isole Sono tutte Uguali Cioè Qua Non ci siamo Ancora Andati Aspetta Aspetta 30 Dobloni E questa 50 Dobloni Questa 44 Dobloni C'è 38 Dobloni Ragazzi Qua io adesso Voglio provare A fare questa Cosa Provare A indicare L'isola E andare A vedere Perché Vediamo Un attimino Intanto 30 Dobloni Dobbiamo Andare Lì E vediamo Un attimino Perché qua L'esplorazione Ci spostiamo Noi Navidiamo Però La finitiva Sia sempre lì Quindi Ragazzi Io mi porto Leggermente avanti Proviamo A spostarci In quel modo E Vediamo Io intanto Vado avanti A cercare Dobloni Ok Beh Ragazzi Dai Facciamo così Ci Aggiorniamo Io intanto Mi porto Un po' avanti Vi porterò Un video Registrerò Un video Magari Su Creativerse Vi porterò Un po' di quello E intanto Ragazzi Sto cercando Un altro gioco Da portarvi Appena ho trovato Un altro gioco Ragazzi Questo lo mandiamo A fare in cpf E noi Facciamo altro Ok Ragazzi Io come sempre Un grosso bacio Un grosso abbraccio Dall'inubbero Mi raccomando Ragazzi Tanti bei like Condividete i miei video E aiutatemi a portare avanti Questo canale Ok Ciao ragazzi Ci vediamo E al prossimo Che play Ciao A prestoni A prestoni A prestoni A prestoni Grazie a tutti.